se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, bentornati in questo nuovo video allora ragazzi, volevo farvi vedere una chicca informata da un iscritto grazie Beppe che mi ha informato di questa simpatica cosa io non ero a conoscenza e secondo me anche tanti altri non lo sapranno quindi ragazzi, voi lo sapevate che sta cazzo di zucca con le maschere nuove suonano? si, le maschere nuove suonano, hanno un audio proprio, hanno una vita propria quindi andiamo su stile ragazzi, azione andiamo a mettere audio della maschera e sbada bam regà come potete sentire sta cazzo di maschera ride non ho guardato le altre nuove che audio facciano ve lo lascio a voi regà, questo era un video informativo volevo informarmi di questa cagata e niente lasciate un like se vi è piaciuto il video un commento, condividete e sbada bam alla prossima